Saluti Marmaia, ben ritrovati sul canale, sono Ben. Nei giorni scorsi qualcuno di voi mi ha chiesto tra i commenti qualcosa su RTX, DLSS e FidelityFX di AMD. Ma c'era un po' di confusione perché l'utente parlava di queste funzioni come se fossero dei programmi da installare sul computer e utilizzare, oppure come dei settaggi da cambiare in qualche pannello per avere un boost nelle performance e nella qualità grafica. E visto che c'è tanta confusione al riguardo, in questo video ti spiego cosa sono le RTX, il DLSS di Nvidia e il FidelityFX di AMD. Like, iscrizione e campanella con tutte le notifiche. Se vuoi supportare il canale, usa il tasto grazie sotto il video. Partiamo subito. Per molti di voi l'acronimo RTX non è altro che un insieme di lettere che fa molto figo prima del numero di serie della scheda grafica. Per esempio Nvidia GeForce RTX 4090. Ma lo sapevi che RTX ha un significato? RTX sta per Ray Tracing, mentre la X è la variabile che può indicare on o off di questo parametro. Visto che, possedendo una scheda grafica RTX e non GTX, ed eseguendo soprattutto un gioco che supporti il Ray Tracing, è possibile attivarlo o disattivarlo. Ma attivare e disattivare esattamente cosa? Il Ray Tracing è un complesso calcolo da parte della GPU, che sarebbe il processore della scheda grafica, per simulare nel modo più realistico possibile il comportamento della luce nel mondo reale. E più si avanza nella produzione di nuovi modelli di scheda grafica, più questo comportamento è sempre più simile alla realtà. Ovviamente i risultati migliori di questa funzione, l'abbiamo visto nelle RTX serie 30, come la 30, 60, 70, 80, 90, eccetera. E un miglioramento c'è stato addirittura anche nelle RTX serie 40, facendo sì che il giocatore possa godere di un'esperienza incredibilmente dettagliata e fotorealistica. Per farti capire di cosa sto parlando, quello che stai osservando in questo momento è una transizione da RTX on a RTX off nel gioco Portal. Noterai come perfino alcuni dettagli vengono messi in risalto dal modo in cui la luce colpisce e rimbalza sulle superfici, e noterai anche come alcuni luci abbiano maggiore volume e di come i bagliori dei riflessi si alternano alle ombre su quelle superfici irregolari. E addirittura c'è il cambiamento di colori degli ambienti. Sembra di guardare una scena di due giochi completamente diversi, eppure stiamo guardando esattamente lo stesso gioco, e non un suo remake. Ma Nvidia non si ferma qui, e per offrire al giocatore un'esperienza che sia ancora più fotorealistica, e soprattutto più godibile dal punto di vista della fluidità, chiama in campo perfino l'aiuto di un'intelligenza artificiale, che non solo offre la possibilità di apprezzare un gioco al massimo della sua qualità grafica, ma con un aumento delle prestazioni. Sì, esatto, la grafica aumenta, e quindi la qualità visiva, ma il lavoro richiesto sulla scheda grafica è inferiore. E com'è possibile? Questo è il DLSS, e come per il Ray Tracing devi avere una scheda grafica equipaggiata con questa tecnologia, ma soprattutto devi eseguire un gioco che supporti questa funzione. DLSS è l'acronimo che sta per Deep Learning Super Sampling, ed è un vero e proprio capolavoro della tecnologia applicata alle schede grafiche moderne, e sfrutta un'intelligenza artificiale per aumentare le prestazioni. L'ultimo traguardo raggiunto, ovviamente, è con le RTX della serie 40, con il DLSS versione 3, che grazie a un nuovo Tensor Core di quarta generazione e un nuovo acceleratore di flusso ottico, riesce a creare frame aggiuntivi di altissima qualità. Ma cosa significa in poche parole? Facciamo finta di avere un gioco che, con DLSS spento e Ray Tracing attivo, produca circa 50 fps. Ebbene, quello stesso gioco, con quella stessa scheda grafica, ma con DLSS 3 attivo, può produrre il doppio degli fps, e anche qualcosa in più. Non si tratta di un aumento di potenza della scheda grafica, ma di una vera e propria elaborazione delle immagini da parte di un'intelligenza artificiale che riesce a produrre quei fotogrammi mancanti, per rendere la scena ancora più fluida. È un po' come se tu mettessi in un proiettore una bobina di un vecchio film, dove nella pellicola mancano alcuni negativi, dove nella pellicola mancano alcuni pezzi di negativi. E, per completare la pellicola, fossi tu manualmente a produrre quelle immagini. Questo non farebbe lavorare di più il proiettore, perché saresti tu ad aggiungere manualmente i pezzi di film mancante. Ecco, in questo esempio, tu che metti i pezzi di film mancante sei l'intelligenza artificiale. Il proiettore sarebbe la scheda grafica, mentre la pellicola è il flusso di immagini generato dalla scheda grafica. La scheda produce sempre lo stesso numero di fotogrammi, e quindi il lavoro sulla GPU è sempre lo stesso. È l'intelligenza artificiale che fa il resto del lavoro. Queste due tecnologie, ray tracing e DLSS, sono equipaggiate nelle schede grafiche Nvidia GeForce RTX. E, per chi possiede una scheda grafica AMD, se sei possessore di una AMD serie 6000, puoi contare su una specie di DLSS, ma con una piccola differenza. Che, nel caso di AMD, non c'è un'intelligenza artificiale che produce maggior numero di FPS, ma si tratta di un semplice algoritmo. Attualmente, la tecnologia FSR, o FidelityFX Super Resolution, è alla versione 2.1. E cosa fa? Si occupa di eseguire un upscaling temporale e in tempo reale, per offrire una qualità dell'immagine simile, pari o addirittura superiore a quella nativa, aumentando anche il numero di FPS su una discreta quantità di giochi. Ripeto che non ti basta avere una AMD RX 6900 XT per godere dell'FSR su tutti i giochi, ma devi eseguire anche un gioco che supporti questa tecnologia. L'FSR, inoltre, ha diverse modalità da poter essere applicate nel gioco, che vanno da ultra grafica a ultra performance. Ma questo non significa che se imposti ultra performance, ne risente negativamente la qualità grafica. Quindi la qualità non viene sacrificata. Ultra performance significa che il gioco andrà a generare un numero più alto di frame per secondo, fino addirittura a due volte e mezzo, rispetto al valore nativo. Inoltre, la cosa interessante di FidelityFX è che non è attivabile solo per le schede AMD della serie 6000, ma può essere attivato anche su schede AMD della serie 6000 e 6000 mobile, quindi parliamo delle schede grafiche 6000 dei portatili, schede 5000 e 5000 mobile, Radeon V2 e Radeon RX Vega, serie 600, 500 e 400 fino alla 460, e perfino CPU con AMD integrata, e perfino CPU AMD con grafica integrata sia per fissi che per portatili. Ma inoltre, schede grafiche della serie GeForce, ma inoltre schede grafiche Nvidia GeForce della serie 10, 16 e 20. E ripeto, solo se il gioco lo supporta. Quindi, chiaro, non basta avere una di queste schede grafiche per poter godere di queste tecnologie, ma il gioco deve essere in grado, ma il gioco deve darti la possibilità tra i settaggi di attivare questa funzione. Bene, parmaia, questa era una spiegazione molto basilare su come funziona il Ray Tracing, il DLSS e il FidelityFX di AMD. E spero di avervi chiarito, e spero di averti chiarito un po' le idee. Fammi sapere tra i commenti se vuoi scoprire qualcosa in più riguardo al mondo della tecnologia, dell'informatica e del gaming in generale. Se ti incuriosisce qualcosa e vuoi sapere come funziona, fammelo sapere, e farò un altro video per spiegartelo nel modo più semplice possibile. Grazie per la visione completa del video, like, iscrizione e campanella con tutte le notifiche. Condividete il video e invitate sempre più gente a iscriversi, ragazzi, perché presto tornerò anche a parlare di flat gaming, e quindi ci saranno molti più argomenti che verranno trattati sul canale. Se vuoi supportare, usa il tasto grazie sotto il video. Da Bene è tutto, ci vediamo alla prossima e ci vediamo in game. Saluti Marmaia.